Si arricchisce con nuove opere il Museo Permanente dell'Artigianato Artistico a Guardia Grele, riaperto in occasione delle giornate del FAI. All'inaugurazione presenti il Vice Presidente dell'Entemostra Paolo Rullo e Flora Bianco, Vice Sindaco. In 2022 ci sono state varie donazioni che facciamo alla mostra dell'Artigianato Artistico Regionale, che oramai è di caratura nazionale, e alcuni artisti ci hanno donato delle loro opere. Dove ci troviamo adesso sono le opere di Licio Ranieri, poi sotto abbiamo quelle di Bruno Zenobbio, di Accusato e dell'Istituto d'Arte di Avezzano. Quest'idea è nata una decina di anni fa, questa idea di attrezzare il museo nel vero senso della parola, di far diventare questa struttura museo. Ovviamente le opere d'arte che troviamo qui sono la maggior parte, sono quelle che provengono dai vari concorsi, che dal 1970 ad oggi si sono fatti qui nella mostra dell'Artigianato Artistico. L'apertura del museo è tutto l'anno, è aperta la mattina dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, tranne il lunedì che è chiuso. Oggi è un bellissimo momento per tutta la cittadina di Guardiagrele, perché si inaugura questa mostra in qualche modo possiamo dire permanente, perché sarà aperta fino a giugno, per poi allestire la 53esima edizione della mostra. Ormai l'ente mostra dell'Artigianato è una realtà incredibile, che ha superato i confini di Guardiagrele, ai confini dell'Abruzzo, quindi per tutti noi è davvero un orgoglio. Di questo, a nome di tutta la cittadinanza, devo ringraziare tutti i volontari, il Presidente Gianfranco Marsibiglio, tutti, tutti, tutti gli artisti che ci onorano con le loro opere. Grazie. 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 Grazie.